Ringrazio Anima per l'invito a questa assemblea pubblica, vengo volentieri, partecipo da diversi anni, si tratta di un appuntamento per me molto formativo perché ci dà l'occasione di confrontarci con un settore molto importante dell'industria italiana e Anima da sempre cerca di aggregare le richieste del nostro settore industriale per proporre alle istituzioni e non solo le necessità di una crescita oggi sempre più sostenibile e spesso le istituzioni rispondono proprio perché vedono coesione, vedono forza e soprattutto vedono lungimiranza nell'idea e questo mi ha sempre affascinato di questa associazione e quindi è da anni che mi sento vicino a tutti voi di Anima e cerco di dare il mio contributo, anche in questa occasione abbiamo ascoltato delle testimonianze estremamente importanti di operazioni di successo che hanno avuto come elemento di condivisione proprio la capacità di fare squadra, ecco in Italia serve proprio questo, fare squadra per affrontare le sfide del futuro.